Dobbiamo guardare oltre le tante emergenze, le nostre Olimpiadi sono già iniziate. Queste le parole della Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Loraina Berton, in vista dell'Assemblea Generale degli Industriali Bellunesi, dal titolo L'impresa di sognare un patto olimpico per il nostro futuro, in programma lunedì 6 novembre a partire dalle 17 al Teatro Comunale di Belluno. Un momento molto atteso di condivisione e analisi in vista dell'evento olimpico. Il bellunese sta vivendo una fase di profondi cambiamenti, puntualizza Berton. Con questa Assemblea vogliamo creare un importante momento di confronto, dove guardare insieme al futuro del territorio, oltre le tante emergenze che ci attanagliano e che sembrano sommarsi. Nonostante tutto, prosegue, abbiamo il dovere di essere fiduciosi. Le opportunità non mancano a partire proprio dalle Olimpiadi, che restano la nostra grande occasione, una iniezione di fiducia se vogliamo creare i presupposti per trattenere i nostri giovani e attrarre nuove risorse. Dopo la relazione introduttiva della stessa Berton, si proseguirà con una serie di interventi, interviste, tavole rotonde, con la moderazione di Sebastiano Barisoni, vice direttore esecutivo di Radio 24. Attesi tra gli altri il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e grandi nomi dello sport olimpico nazionale. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.